musica 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 ma chi sei tu? io sono un elfo, mi chiamo elfo godoletta tu come ti chiami? ilarith sei andato? ilarith io sono convinto che qui c'è qualcosa che non va dove vado? lì e poi dietro a bordo dietro a bordo dietro a bordo ben crudi in cui ceriamo video lui è popo natale e lei è ilarith oggi ha in mente qualcosa da fare in la letterina la letterina però non ascoltate lui lo sapete una volta lui ha distrutto una mia macchina volete sapere qual è la mia letterina? la vogliamo fare insieme? prima di tutto iscrivete al canale l'assemble aromelina dei assornamenti vi siete iscritti? bene noi possiamo fare la letterina tu no adesso chiamo babà passiamo la letterina insieme bene geni dobbiamo fare la letterina? si ah ma stai facendo un vlog? ma quando me lo dici? quindi ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo già l'hai detto? allora amici è arrivato il momento di fare la letterina di babbo natale questo momento lo state aspettando da tantissimo perchè ce l'avete chiesto in tantissimi voglio sapere una cosa prima di fare la letterina con Hilary voi che cosa avete chiesto? no scrivetelo nei commenti no perchè noi vi leggiamo a tutti no no facete questi segreti non ascoltate lui ma quello non è un segreto la letterina si può dire vabbè almeno una cosa almeno una cosa la possono scrivere una dai una scrivetecela nei commenti noi vogliamo sapere che cosa volete voi siamo pronti per scrivere la letterona a babbo natale una a 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 parlante, un cane in cammina che fa la cacchina, un peluche che mi comanda questa è una letterina secondo voi, posso da sola, posso da sola, ma non sa scrivere mi sono imparata, mi sono imparata, va bene, papà ti vedo stanco, vai a riposare mi vedi stanco? no, va bene allora facciamo così, vado a riposare proprio giusto qualche minuto, che stai facendo? vado a riposare proprio qualche minuto e poi la facciamo insieme Ok, intanto fai le prove Cotoletto, vieni Via libera Ecco, Milary, papà Che facciamo oggi? La letterina Sì, mi piace Posso scrivere io? Sì, però, bene, bra Vai, questa chi l'ha fatta? Non mi piace Posso cancellarla? No Vabbè, io ne faccio un'altra qui No Vai, allora A chi è la letterina? A Babbo Natale Ma tu lo conosci Babbo Natale? Eh, sì Lo conosco E sarà barba? Bianca, bianca e anche un po' verde Come, no? Eh sì, c'è la bianca verde E qui sulla punta un po' azzurra Allora Caro Babbo Natale Allora Sono Sì Sono Ilari Lo scrivo io No, aspetta Sono più brava io di scrivere Allora Sono Ilari Poi No No E chi? No, si scrive così Vabbè, c'è di prova No, no, no Guarda Si scrive così L'ho scritto io Ma sei bravissima Ok Cosa vuoi quest'anno per Natale? Una bambola parlante e cammina Allora Una Bambola Danzante No Parlante Ah, una bambola Che parla E cammina E cammina Cammina, 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 cammina e va a casa No Ho sbagliato? Si Ma scusa Cammina Cammina Poi Con cane Si Che cammina Poi il sale No Il cane Ah, il pane No Il cane Ah, va bene Pane e Nutella No Il cane Ah, il cane Il cane Pure uno per me Va bene No Se è un cane per elfa No Ah, elfa no Ah, elfa no Ok Ma che fa? Poi 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 Posso scrivere un regalo pure per me qua dentro Mi ritrovo Poi Poi, voglio Voglio No E tu l'hai detto io ascolto Voglio Voglio Un papà Peluche Che Papà Ce l'hai papà? Peluche Ah Cos'è un peluche Morbido Una cosa morbida È un peluche Un peluche Ok Ok, poi? Una Barbie Con gli occhi assuri Una barba Una barba Barbi Ah, scusa Un attimo che risponda al telefono Scusami Scusami Pronto? Sì, ciao Buon Natale Sì, sono con Come si chiama? Ilari Ilari È stata brava È stata brava Tanto Quanto tanto? Tantissimi Eh, tantissimi Dice che vuole quelli cattivi lui Oh Eh sì Tu come sei stata? Cattiva o buona? Buona Eh, lei è buona È buonissima Sì Fai arrabbiare papà? No Eh, ha detto di no No, no, no Vabbè Com'è? Eh, com'è? Eh, allora È alta? No È bassa È bassa È bassa Eh, c'ha la bagnetta rosa Sì C'ha le Un cerchietto Le rende Poi porta il pannolone C'ha i pannoloni No Ah, non ce l'hai il pannolone No C'ha i pantaloni C'ha i pantaloni Poi li puzzano le celle No Ah, non li puzzano le celle No, no, no Eh, sì Eh, ha quanti anni hai? 45 No Cinque Cinquantacinque No Cinque e basta Cinque e basta C'ha, ok Cinque e basta Poi, poi Eh, c'ha due mani C'ha tutto Eh, Simba C'ha un bel sorriso Poi un bel sorriso Eh, c'ha un bel sorriso, sì C'ha un sacco di calcoli dentro Non si dice? No Vabbè, è carina Sì, stiamo finendo Te la mando poi, eh Finiamo l'ultimo regalo Ma posso aggiungere un regalo per me Nella lettera di sì? Eh, ormai vivo qui da Ilari No, non mi fa tornare Io non ci voglio tornare Babbo, no, dai Non voglio venire adesso Ma sto con Ilari Ormai vivo con... Va... Vabbè Vengo un attimo e torno, ok? Eh 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 Ilari Ilari Che c'è Ilari Perché stai stillando? Cos'hai? Vuoi la cotoletta da mangiare? Sì Ah, volivi la cotoletta Tra un po' Quando è ora di cena? Questa è la Coca-Cola prima Ma adesso quasi entra Scusa Ma... Chi ha scritto questa lettera Fino adesso qua? Io Ma ti sta imparando a scrivere, bene La vogliamo continuare insieme? Ma riposati Eh? Riposati Sshh Tra un po' tornare Le fa ma quando torna Vai Sshh Chi ha detto? Niente Tra poco torna Babbo Ah Va bene Allora io finisco ancora un po' Di riposare Ok? E poi facciamo Finiamo la letterina Ok Tanto vedo che te la stai cavando bene da sola Ah Ilary Sì Eh scusami C'erano un po' di problemi Con il consiglio dei regali C'era anche la bambola parlante Un sacco di cose da preparare Dove eravamo rimasti? Allora Ok L'ultimo regalo Ilary Una bambarbi Me l'ho scritto Con gli occhi azzurri Con gli occhi azzurri Azzurri Arzzurri 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 No Azzurri Azzurri No Azzurri Ok Azzurri Poi Poi Ehi Ehi Scusa che Ieri ho fatto tardi Sono andata a parlare Con Babbo Natale In discoteca Vai dimmi E poi vorrei un cappello come il tuo? Ma che mi hai rubato il cappello? No Ma è un cappello come il tuo? E un cappello come il tuo? Va bene Il tuo E un cappello come il tuo? No Il cappello dell'elfa Come il cappello dell'elfa Come il cappello dell'elfa Appunto Ti voglio tanto No No Che diciamo a fine? Fine Ciao Babbo Natale Ci vedremo a Natale Ciao Babbo Natale L'elfa rimane Si vedremo a Natale Ci vedremo con il maiale A Natale Ah ci vedremo a Natale L'elfa rimane a casa con te Così non vado più Posso scriverlo? Eh Allora giriamo È lunghissima L'elfa Lo scrivo io L'elfa rimane a vivere con Ilari Scrivi Elfa rimasta Papà dai E qui Si veloce I con Ilari Ecco Ilari Bene Allora La prendo eh Che Gliela porto io A chi? A Babbo Natale Babbo vai Ecco adesso io questa La porto a Babbo Natale Ok Senti io devo andare Tu hai proprio fame C'è qualcosa? Sì Ti hai fatto Grazie Ilari Ci vediamo dopo No 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 È mio Elfa 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 Si ma se devi proprio andare Torni da me Mi porti tutti i regali Ti porto tutto Grazie del pandoro No No Vado Uno Due Tre L'ho messo Dove Pecciolini Voi avete visto Elfa 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 Allora Facciamo la lettera L'ho finita Dov'è? L'ho mandata dopo un Natale Ma scusa Com'è la mandata dopo un Natale? Ehm C'era un topo Un topo? Un topo Si Il che era vestito da Elfo E Poi Mi ha detto Dammi la lettera Dammi la lettera Ho fatto un poco Natale E poi Pum E' sparito con la lettera Un topo? Si Vabbè queste sono due cose che inventi come al solito Vabbè dove l'hai buttato il foglio? Dove l'hai finito? Vabbè lo rifacciamo da capo dai No 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 Non lo vuoi più fare Come non lo vuoi più fare? Ma facciamola no? Aspetta Non lo posso Ma che stai facendo? Questa è per fare scrivere le letterine del baffo Natale Ma Elfa Scusa a proposito Ma io Avevo un po' fame Il pandoro che stava qui Ilary Dov'è il pandoro che era qui? C'era un pandoro qui Ilary Hai mangiato tutto il pandoro che era lì sopra? Si 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 Tutto il pandoro hai mangiato? Ma che vuoi diventare come il baffo Natale? Scusami eh Ilà Posso sapere una cosa? Cosa? Dove è andata a finire la letterina che avevamo scritto? E' il facotoletta? E' il facotoletta? E' il facotoletta Cotoletta Chi è il facotoletta? Cotoletta ho detto Hai sentito male? Ah puoi da mangiare una cotoletta? Dove è fai? Ah ok Allora facciamo una cosa La letterina poi la facciamo Dai allora ti vado a preparare una bella cotoletta da mangiare Che ne dici? Quindi amici Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Lasciate un bel like Alla campanellina Delle aggiornamenti Attivate la campanellina Degli aggiornamenti Delle caccoline Delle caccoline Ma quale caccoline? Va bene amici Se volete ci vediamo domani In un altro noessimo video Mi raccomando iscrivetevi al canale Vi siete iscritti? E noi ci vediamo domani In un altro noessimo video Ciao belli Ciao 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 belli a domani Ciao Ciao